La riforma delle Camere di Commercio alla situazione dell'economia e i progetti messi in cantiere dall'amministrazione comunale insediatasi esattamente un mese fa sono state al centro delle riflessioni dell'incontro di martedì mattina tra il Consiglio Camerale, al Gran Completo, ed Alan Fabri, sindaco di Ferrara. Il Consiglio della Camera di Commercio, composto da 28 membri, determina gli indirizzi generali, elegge il Presidente e la Giunta ed approva il bilancio. È nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni. In questi giorni, spiega il primo cittadino, abbiamo affermato dei libere e lavori che sono stati portati avanti dalla Giunta precedente senza una vera condivisione con il territorio, dice il sindaco. Tra i primi atti annuncia Fabri il blocco del bando per l'assegnazione della gestione delle imposte comunali sulla pubblicità. Vogliamo rivedere i parametri di questa imposta che appesantisce in particolare le attività commerciali per abbassarle il più possibile o ridurla a zero. E allo stesso tempo vogliamo fare un ragionamento simile sui passi carrabili, dice Fabri. Un lavoro importante lo faremo anche su Sipro, continua il sindaco. Portare nuove imprese a Ferrara sarà una delle sfide più importanti del nostro mandato, prosegue il primo cittadino, il quale ha ribadito il suo no alla fusione della Camera di Commercio di Ferrara con quella di Ravenna. Quella di oggi, ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio Paolo Govoni, è stato un tavolo di lavoro per sintonizzarci sugli obiettivi e sui tempi di un progetto di sviluppo e di crescita economica che per essere efficace deve essere davvero utile alle imprese e ai territori, ha poi chiuso il Presidente.